Ciao a tutti, grazie per venire a questa celebrazione Ricominciamo Innanzitutto siamo tutti flessissimi di essere qui Siete molti di voi che avvicinano per essere qui Luca, prendersi cura di mia Viglia E ora siete tutti parte della nostra famiglia italiana Cheers Mondo, Emma, Enna, Cam, Lama, Luca Voglio parlare a tutti i presenti Soprattutto a chi conosce un po' meno lo sposo Di due qualità di Luca Due qualità che all'interno di un matrimonio sono più preziose dell'oro La prima è la fedeltà Con Luca è nato subito un bellissimo rapporto Perché insomma è una persona fantastica che tutti quanti avete modo di vedere oggi Però non avremmo detto che saremmo arrivati al giorno dove siamo oggi E sono veramente contento e felice di vedervi insieme Vi voglio bene e vi auguro veramente una vita felicissima insieme L'unico aneddoto che posso raccontare è quando ho visto Luca e Anna per la prima volta insieme Gli dissi, Luca, secondo me con questa va bene No words can really describe how beautiful this evening has been And it's truly magical And I wish you guys nothing but the best Love and happiness forever and ever And Anna, you look absolutely stunning in your dress And I'm very grateful for our friendship And I couldn't ask for a better best friend I migliori amici non si incontrano così per caso Migliori amici ci si diventa E penso che l'amicizia, la nostra amicizia, quella di tutti noi Sia un po' come una grande scatola Dentro la quale noi abbiamo messo delle esperienze belle Dei momenti difficili Che abbiamo condiviso insieme E che ci hanno fatto diventare quello che siamo oggi Ciao Hi everyone, my name is Kasia Anna and I were roommates in San Diego She and I will be the first to tell you that we were probably not friends When we lived together Abbiamo diventato amici quando riuscirono e siamo in contatto, ma Anna, come voi sapete, è un lavoro estremamente difficile, quindi le piccole interacce che abbiamo avuto quando viviamo insieme erano «Hi!» e «Goodbye!» «Off to work» o «Off to school». Abbiamo avuto un paio, magari un paio. Stravolgere o semplicemente cambiare il nostro rapporto. Quindi, Anna, benvenuta ufficialmente nella nostra famiglia, e godo di vivere la vita insieme. Congruzione agli sposi! Grazie a tutti! Luca non poteva trovare persona migliore di te, Anna. Sei bellissima, determinata e pronta a tutto per questo grande amore che avete tra di voi. Grazie a tutti!